amici carissimi del tino carogati bene ritrovati come sempre qui sulle frequenze di youtube per le mie interviste della domenica oggi è un'intervista veramente particolare perché a differenza delle altre volte non intervisto un personaggio che ha a che fare direttamente con mondo della musica uno studentista piuttosto che un cantante ma ho con me nel mio salutino oggi una musicologa do il benvenuto a angela forin eccola qui in tutta la sua fulgita bellezza pronta a intanto ciao angela salcino ciao tutto bene sì sì tutto bene grazie tino ti vedo in splendida forma perfetto niente dicevo angela è una musicologa ma credo che nessuno meglio di lei possa veramente dirci che cosa ha fatto che cosa tratta e di che cosa ci parlerà soprattutto oggi sarà un'intervista interessantissima ve lo dico già adesso anche se non so minimamente cosa dire alla gela però insomma grandi linee ci siamo messi d'accordo angela descriviti proprio brevemente così almeno abbiamo anche un po il quadro è di quello che sei di quello che hai fatto e quindi di cosa dobbiamo aspettarci da te certo grazie grazie tino intanto per per l'invito a essere qui tra nel tuo canale mi fa davvero molto piacere molto onore quindi sono molto felice ti ringrazio proprio ancora per questo graditissimo invito che dire io sì non sono una musicista differenze tuoi precedenti ospiti sono una musicologa io sono laureata in dams arte musica spettacolo curriculum musica sempre all'università di padova lettere filosofia sono padovana e poi ho fatto anche la specialistica in musicologia e beni musicali quindi ecco io non sono una non pratico musica non sono una strumentista mi diletto ma con scarsi risultati sono più andata sullo studiare appunto no la musica quindi la musicologia e poi ho anche aperto insomma mi occupo di divulgazione di divulgazione musicale o mio sito musicologica appunto it ne approfitto e dove appunto scrivo articoli e tengo poi anche corsi conferenze sempre di taglio più culturale e sociologico ecco io quando parlo di musica non parlo di musica di storia della musica nel senso di la vita la biografia di un artista oppure l'analisi di un brano di un'opera musicale battuta per battuta nel suo dettaglio ma io mi piace di più parlare di musica in senso proprio generale musica con la m maiuscola quindi che cos'è la musica da un taglio da un punto di vista appunto culturale e sociologico ed è quello di cui parleremo oggi vero tino mi dicevi appunto facciamo un po una chiacchierata sulla storia della musica ovviamente dico chiacchierata perché parlare di solo della musica credo non basterebbe una vita intera ovviamente cioè ovviamente noi faremo quello che possiamo ma così giusto per dare perché sai la gente ascolta tanta musica l'ascolta dovunque ormai i mezzi di comunicazione ci consentono veramente però non so quanti e io mi ci metto fra questi che sappiano esattamente proprio in senso molto generale ovvio come nata la musica come si è sviluppata che cosa è successo per farci arrivare oggi a quello che facciamo a quello che ascoltiamo quindi ti lascio la parola che ora comincia da dove cominciamo dalla preistoria dalle uomini di anni neanderthale io incomincierei proprio ancora da prima da prima di tutto perché prima di tutto ancora no storia della musica ma allora bisognerebbe domandarsi storia di che cosa cosa intendi per musica che cos'è la musica e qui c'è la domanda delle domande no che è un ottimo punto di partenza per iniziare a parlare a ragionare soprattutto di musica iniziare a definire a definire cosa intendo io per musica cosa intendi tu tino per musica questa è una domanda difficilissima no molto spesso mi sento rispondere beh la musica è la colonna sonora della nostra vita e certo ovvio va benissimo noi studiamo musica per lavoro ma anche per diletto tutti i giorni siamo circondati di musica ma anche appunto per diletto ovviamente anche noi la musica ci accompagna nelle nostre giornate e questo però una visione un po anche se vogliamo banalizzata semplificata di che cos'è veramente la musica no e come dicevo questo un ottimo punto di partenza è stata anche una delle molle che ha fatto partire il mio progetto musicologica cercare di andare a incuriosire a scoprire cos'è la musica con l'em maiuscola no dicevo anche prima musica per me è parlare è una finestra che apre ad un universo un universo pieno di infiniti mondi perché parlare di storia della musica è parlare della storia dell'uomo e della storia dell'uomo attraverso i suoi atti sonori questa è una bella definizione e quindi parlare di musica ci porta a parlare di evoluzione di rivoluzioni di scoperte ci porta a parlare di matematica la musica è matematica ci porta a parlare di scienza di geometria di filosofia di psicologia di letteratura poesia storia pittura veramente la musica dipende che taglio tu vuoi dare che significato vuoi dare e veramente puoi aprire a infiniti mondi quindi ecco questo è una cosa che un po andiamo a precisare insomma no ma è un bellissimo punto di partenza rispondere alla domanda che cos'è la musica e poi anzi andiamo avanti che cos'è la musica o musiche e qua complichiamo un po' la cosa no perché c'è una un settore della musicologia l'ettono musicologia ad esempio che studia le musiche del mondo perché noi siamo europei occidentali euro centrici e quindi storia della musica ovviamente diamo per scontato la storia della nostra musica ma in realtà le musiche del mondo sono tantissime con delle storie ovviamente differenti pensiamo anche soltanto la musica indiana dell'india ad esempio che tempo quella un po più conosciuta un po da tutti insomma penso che insomma capiamo subito cosa mi sto riferendo che è qualcosa di molto diverso da quello che intendiamo noi come musica oggi sia dal punto di vista filosofico ma anche di punto di vista grammaticale della musica quindi sono due storie completamente diverse qui dobbiamo stringiamo ovviamente il campo notti in oggi dicevamo un po della nostra musica occidentale anche perché un'altra delle domande che adesso tino ti faccio è la musica secondo te è un linguaggio universale nella maniera assoluta dice di sì sì assolutamente e ti dico anche perché questa è la mia esperienza che lo avevo allora anche raccontato in un video mi trovai una volta in una vacanza e tirai fuori la mia chitarra che mi portavo allora sempre con me e mi misi a suonare veramente con delle persone che non comprendevo quando parlavano perché uno parlava in austriaco l'altro era un neozelandese quindi ma ci mettemmo lì e magicamente insomma ci intendemmo subito suonando degli standard jazz nella fattispecie quindi da questo punto di vista senz'altro io questa esperienza ma credo che non sia solo la mia mi fa mi farebbe propendere a risponderti sia un linguaggio universale ma la musicologa sicuramente avrà da dire è in realtà non è così semplice perché è una questione che arrovello molto la musicologia una risposta certa non c'è perché dipende da che parte guardi le cose nel senso dipende da cosa intendi per linguaggio e cosa intendi per universale perché tu mi dici mi sono trovato in un posto x nel mondo con persone che non conoscevo e e abbiamo suonato degli standard jazz ma era un linguaggio che voi conoscevate erano standard jazz invece la musica è diversissima quindi mettersi ad ascoltare una musica di una tribù dispersa dell'africa non so quanto noi riusciremmo a capire di quel linguaggio musicale ci sono anche musiche che per noi magari non non sembra neanche musica o al contrario sono anche degli aneddoti di appunto etnomusicologi che sono andati a studiare a portare queste musiche nel mondo facendo ascoltare un concerto di musica classica occidentale e dopo averla fatta ascoltare questa questa tribù ha detto ma ti è piaciuto sì sì l'inizio sì poi dopo no e l'inizio era il momento di accordatura degli strumenti ecco quindi quello era si avvicinava quello che era la loro musica e per loro quello era musica il resto era un linguaggio completamente diverso che loro non so la quinta di beethoven adesso mi invento non so non mi ricordo qual era il brano in particolare per loro è qualcosa di completamente strano mai sentito quindi non era vicino a quello che loro intendevano musica e non lo capivano quindi dipende cosa si intende per linguaggio perché il suono lo ascoltiamo tutti quindi una musica con un ritmo molto veloce ci mette ci fomentare il battito cardiaco tecnicamente quindi ci mette un po più ansia più impressione questo succede a tutti una musica invece più lenta un effetto più calmante quindi queste sono universali che accomunano tutte le musiche possiamo dire però a livello di linguaggio a livello di significato di cosa poi una musica significa tipo un gamelan balinese è difficile bisogna un po studiare cosa c'è dietro quindi anche la musica indiana tutti questi discorsi qui quindi sì sì e no dipende un po no dal punto di vista però questi studi antropologici etnomusicologici scusami la parola è in effetti un po complicata hanno scoperto che pensa non esistono civiltà senza musica questo è un concetto molto interessante se ci si ferma un attimo a cercare di capire il significato di questa affermazione cioè tutte le civiltà umane hanno scoperto questi studi antropologici che hanno sviluppato tutte un tipo di musica quindi possono anche essere state civiltà che non hanno sviluppato poi un proprio linguaggio scritto magari una un tipo di scrittura quindi solo trasmissione di sapere orale ma tutte le civiltà hanno sviluppato un qualche tipo di musica e questo è qualcosa di molto significativo e molto importante anche per l'importanza che è la musica perché si dice ma noi abbiamo veramente bisogno no di tutta questa musica che ci circonda oggi non passa giorno che volenti o nolenti non ascoltiamo musica anche se non vogliamo no lo sappiamo al supermercato nei negozi in macchina la musica ci arriva sempre ogni giorno è inevitabile e c'è tutto questo bisogno ed è io risponderei di sì tutti lo immagino anche di sì perché la mia vita senza musica vorrei un po difficoltà sinceramente anche se ovviamente non è un bene primario come mangiare bere dormire no chiaramente però è proprio a tornando indietro quindi agli albori quindi partiamo proprio no con la nostra storia della musica quindi nelle civiltà primitive che troviamo vero il significato più basico più puro di cosa è la musica perché appunto per queste civiltà anticamente proprio nelle nostre nei nostri albori all'inizio della nostra storia di esseri umani proprio la musica è stato un mezzo di trasmissione importante anche per le culture non alfabetizzate era un modo un mezzo anche mnemonico per ricordare per trasmettere conoscenza, è anche un mezzo per conoscerci, per trasmettere emozioni, per parlare magari con qualcuno di diverso, come è successo, come raccontavi tu, quindi con persone che non conoscevi, la musica, quindi questo linguaggio, questi standard jazz che avevate in comune vi hanno dato la possibilità comunque di parlare e la musica è anche un forte mezzo per creare la propria identità, quindi è qualcosa che questo poi è rimasto ancora oggi, ad esempio se io ascolto musica jazz, faccio parte di un gruppo di persone a cui piace un certo tipo di musica, vanno in determinati locali, quindi mi identifico con questo gruppo come la musica metal, come la musica classica, come l'opera lirica, il tipo di musica, il genere di musica che ascoltiamo è un forte collante, è un forte mezzo per affermare la nostra identità, ma quindi iniziando poi proprio col viaggio nella nostra chiacchierata sulla storia della musica, la storia della musica poi in occidente, la culla non poteva che essere la Grecia, la Grecia antica, quindi i libri di storia della musica partono tutti quanti da lì e a dispetto delle grandi fonti sulla teoria musicale greca, che era molto anche complessa, devo dire anche strutturata in maniera abbastanza complessa e abbiamo molti testi che ci sono arrivati oggi, in realtà ahimè abbiamo pochissimi frammenti di musica greca, quindi in realtà sappiamo tutta la loro teoria, ma non sappiamo, non riusciamo, abbiamo pochissimo su partiture, diciamo così per semplificare le cose, su come doveva suonare la musica dei greci, ma... Ebbè ma potevano anche, scusami adesso voglio dire, potevano come dire adeguarsi, prendeva un registratore e lasciarsi qualche traccia di sé, no? Eh ma loro sono molto filosofi, filosofeggiano e quindi i filosofi sono un po' oltre queste cose molto pratiche e a tal proposito c'è, non so se possiamo dirlo, ma c'è una cosa che mi ha molto colpito, te l'avevo anche detto, no? La firma della tua email, che è una bellissima citazione di Platone, che ci siamo scambiati qualche email per organizzarci per oggi e ho detto guarda Tino, soltanto su quella citazione ci potrei mostrare le ore, perché era una bellissima affermazione di Platone che diceva appunto la musica è una legge morale, iniziava così, quindi che dobbiamo dire? Lì è proprio, era anche un alto significato che aveva la musica all'epoca, no? Stiamo parlando di Platone, Aristotele della Grecia antica, no? Quindi per iniziare come è iniziato tutto, con una musica che era molto presente in quella civiltà e una musica che era importante non solo per il divertimento, quindi la parte più edonistica della musica, ma era anche molto importante la parte intellettuale, quindi la musica era concepita anche come un mezzo di formazione culturale, per formare la vita degli individui, anche come mezzo di collante sociale, come dicevamo prima. E come dicevano anche Platone, era un mezzo per educare i giovani, no? La musica. E dicevano anche che è ginnastica, era come la ginnastica dell'anima, la ginnastica della mente, quindi un alto concetto che si aveva allora di che cos'è la musica. E quindi anche qui, ed è rimasto sempre poi questo binomio nella nostra cultura, è così anche oggi in realtà, no? Questo doppio aspetto, l'aspetto edonistico, quindi di distrazione, di divertimento che dà la musica e l'aspetto più intellettuale, più culturale della musica, l'Apollineo e il Dionisieco, questi due aspetti della musica teorizzati poi dai filosofi greci, che avevano appunto questa alta considerazione della musica anche come mezzo di educazione dei giovani, che poi è rimasta fino ad oggi. E poi da lì vado velocemente con la macchina... Ti fermo un attimo solamente Angela, di che periodo storico stiamo parlando? Eh, qui siamo nella Grecia, nella Grecia di Platone e Aristoteco, quindi siamo proprio nella Grecia Artica, siamo proprio negli albori della nostra cultura. Poi dopo la musica da lì è passata ai Romani, quindi i Romani hanno, come si dice, ripreso delle teorie musicali dei greci e quindi sono poi avanzati, insomma, nell'evoluzione della musica e arriviamo poi appunto nel Medioevo. Arriviamo nel Medioevo, nel quinto, sesto secolo dopo Cristo, con un personaggio molto importante che è Severino Boezio, che è un nome credo non molto noto, perché la musicologia è fatta di pilastri, di nomi molto importanti, che però in me non sono Bach, Beethoven e Mozart, che però hanno veramente creato le basi per quello che siamo noi oggi, no? E uno di questi è Severino Boezio, che appunto ha creato una famosa, ha teorizzato nel suo scritto destituzione musica, la famosa tripartizione della musica, ovvero, qui torniamo un po' a com'era considerata la musica nel Medioevo, siamo nel quinto, sesto secolo dopo Cristo. Ovvero, la musica era di tre tipologie, di tre aspetti. Poteva essere musica instrumentalis, musica mundana e musica umana. Allora, la musica instrumentalis è la musica come la intendiamo noi oggi, quella che viene cantata o suonata dagli strumenti. Questa era la musica instrumentalis, ma poi ce ne sono altre due. C'è la musica umana, che era la musica intesa come l'armonia interiore, quindi l'armonia tra corpo e spirito dell'uomo. Quindi cominciamo un po' a elevarci di concetto e poi ce n'è un'altra, ancora più alta, la musica mundana, ovvero l'armonia delle sfere celesti. Quindi quella musica che regge tutto l'universo, tutto l'universo, tutto il cielo, eretto da questa musica meravigliosa che ritorna poi questo concetto di derivazione pitagorica, di Pitagora. Anche lui no, è molto importante per quanto riguarda la storia della musica. E questa tripartizione della musica è rimasta per tutto il periodo del Medioevo, teorizzato appunto da Boezio, e l'ha ripresa ad esempio anche Dante. Oggi, quest'anno è l'anno di Dante e anche Dante, la musica è un'interessante chiave di lettura per leggere la Divina Commedia. Dante, ogni cantica, inferno, purgatorio, paradiso, è scelto delle musiche diverse, delle determinate tre tipologie diverse di musica proprio per indicare, per dare l'idea di questi tre diversi mondi. E poi quando arriviamo all'Empireo, davanti all'amore assoluto, davanti al Divino, anche il sommo poeta rimane un po' senza parole, cioè si fa fatica a parole, a descrivere un concetto così alto come il Divino e l'amore assoluto. E quindi ecco che la musica viene ancora una volta in aiuto di Dante perché è proprio la descrizione della musica mundana, no? Di Boezio. Quindi questo è il livello più alto concettualmente di musica perché Dante davanti al Divino, il Paradiso, l'Empiro è fatto di luce e di suoni, luce accecante. Quindi noi siamo immersi nella luce e quando siamo immersi nella luce siamo accecati. Quindi c'è tantissima luce ma noi non vediamo nulla, no? Al contrario. E la stessa cosa la descrive Dante con la musica. Sento una musica meravigliosa, una musica bellissima ma le mie orecchie umane, dice Dante, sono imperfette e quindi non riesco a sentirla perché è talmente bella e talmente alta che io, umano, non riesco a comprenderla. E questa è proprio la descrizione del livello più concettualmente alto che possiamo avere di musica. Perché infatti nel Medioevo più che di musica dovremmo parlare di Ars musica. Questa è un'altra cosa interessante. Ovvero si parla di Ars musica, cioè delle arti di tutto il sapere che fa parte del mondo del suono della musica. Quindi era un concetto molto più importante che si aveva allora, no? Di questa arte. E infatti il musico non è il musicista. Era inteso come colui che studia l'Ars musica, quindi il musicologo, beh insomma ancora di più però in realtà, no? Colui che studia l'arte dei suoni, mentre chi suona, chi canta erano i cantores. Quindi c'erano anche proprio due termini diversi per indicare questi aspetti appunto della musica. E infatti la musica era tra le arti, e qui torniamo anche un po' ai greci, insomma siamo sempre in questo momento molto alto della storia della musica che a me c'è tanto, se non si è capito. Perché la musica era tra le materie fondamentali, diremmo così, le materie obbligatorie, diremmo oggi, degli studi liberali. Allora all'epoca gli studi erano divisi in due, triennale e specialistica, diremmo oggi. Allora la triennale era il trivium e si studiava grammatica, aritmetica e retorica. Poi si passava al quadrivium, allo studio, cioè delle sfera scientifica, dove c'erano matematica, geometria, musica e astronomia. Quindi la musica era obbligatoria, quindi qualcosa che si doveva studiare e faceva parte, giustamente anche ci sta, della sfera scientifica però, non della sfera artistica, quindi aveva proprio una connotazione molto più scientifica. E perché? Perché la matematica studia il numero, la geometria studia il numero nello spazio, la musica studia il numero nel tempo e l'astronomia studia il numero nello spazio e nel tempo. E quindi era fondamentale, importante e la si doveva studiare, faceva parte della sfera scientifica, degli studi delle arti liberali del tempo. E qui parallelamente siamo nel canto gregoriano, siamo in quel mondo lì e arriviamo all'anno 1000 e troviamo un altro personaggio molto importante che si chiama Guido D'Arezzo. Non so se ti non l'hai mai incontrato nei tuoi studi, questo importante personaggio, perché molto spesso ci si chiede ma perché do, re, mi, fa, sol, la, si? Ma chi ha deciso che il si si chiama si, che il re si chiama re, ma perché, perché hanno dato queste sillabe come mai, è chi ha dato il nome alle note appunto Guido D'Arezzo, un italiano e per un motivo anche molto interessante. Qui fa parte proprio delle evoluzioni, delle rivoluzioni di quelle cose veramente interessanti che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. Guido D'Arezzo era un monaco, era un musico, era un insegnante di musica, diciamo così, semplificando, e per aiutare i suoi allievi nel memorizzare l'altezza delle note, ha scoperto che c'era un inno dedicato a San Giovanni, che veniva cantato nei Vespri del 24 giugno, giorno insomma in cui si festeggia San Giovanni, e questo inno si intitola Ut Queant Laxis, e lui ha scoperto che è un po', seguimi, seguitemi perché è un pochetto difficilotto, ma non tanto. L'inizio, ogni sillaba dell'inizio di ogni verso, lui ha scoperto, ha notato che era intonato su una particolare suono. Ora Ut Queant Laxis è il primo verso, Ut era su un suono. Il secondo verso era Resonare Fibris, Re di Resonare era un altro suono. Il terzo verso era Mira Gestorum, Mira Mi, era un terzo suono diverso dai primi due, e via così, e quindi Ut Re Mi Fa Sol La. E questo è il motivo per cui questi primi sei suoni li ha chiamati così, per aiutare appunto i suoi allievi a memorizzare l'altezza delle note, quindi creò il primo solfeggio, si chiamava Sol Misazione, poi c'è la mano guidoniana anche che è molto interessante, che si trova in tanti moltissimi libri di teoria musicale medievale, che c'è questa manona, in cui ogni punto della mano era un'altezza delle note precise, ed era appunto un primo, un prototipo di solfeggio, appunto per aiutare la memorizzazione dei suoni. Ovviamente sto parlando di sei suoni, perché all'epoca erano scale modali basate sull'esatonica, su sei suoni. Poi soltanto più avanti, siamo nel diciassettesimo secolo, quando venne introdotto anche il settimo sono, quindi le scale a sette del sistema eptonale, viene introdotto anche il sì, chiamato così per un omaggio a Guido d'Arezzo, perché il sì sta per Sante Ioannes, San Giovanni, e quindi per riprendere appunto l'idea iniziale di Guido d'Arezzo, e poi Ut, che era il nostro Do, anche Ut è stato cambiato successivamente da Doni, c'è chi dice, dalle prime iniziali del suo cognome, però si pensa che sia per la parola Dominus, no? Signore, Dio, quindi ecco, più probabile quello, mentre in Francia ancora oggi si usa Ut, no? al posto del Do, ed è proprio per questo motivo, perché loro invece sono rimasti fedeli all'originale. Voglio dire, però insomma, al solito gli italiani ci hanno messo lo zampino. Eh vabbè, hanno un po', hanno un po' innovato, e qui siamo nel periodo, anche qui, la notazione musicale, anche fare la storia della notazione, anche questo è un mondo meraviglioso di scoperte, di evoluzioni, di intuizioni geniali, che sono arrivate a un certo punto della storia, perché qui nell'anno 1000, insomma, siamo nel, ci ricordiamo i canti gregoriani, questi bellissimi manoscritti, no? Che sono dei gioielli, che sono, che portano ad oggi la musica del tempo, no? Oggi noi sappiamo come suonavano queste musiche del passato, perché sono arrivati questi bellissimi manoscritti, questi codici mignati, che sono meravigliosi, no? E ci ricordiamo magari il tetragramma, quello che vediamo più spesso, questi quattro righi rossi, con le notone quadrate, la notazione quadrata, no? Siamo a questo punto, siamo nell'anno 1000, 1200, siamo così, a questo punto dell'evoluzione, che poi porterà al pentagramma, che sarà poi in uso dal 500 in poi, e le note che diventeranno sempre meno spiccolose e sempre più tondeggianti. Prima ancora, però, c'erano solo due righi, pensa, c'era un rigo rosso, che indicava il fa, e un rigo giallo, che indicava il do. E prima ancora c'era un rigo solo, su cui venivano scritte dei neumi, quindi dei simboli, dei segni, che davano un po' un aiuto, un aiuto per dare un'altezza delle note, delle melodie, dell'andamento melodico, no? Quindi anche qui è molto interessante e affascinante scoprire poi l'evoluzione, come siamo arrivati al nostro pentagramma, perché non tutte le culture, anche qui, hanno il pentagramma. Ma noi sì, siamo in un incidente, quindi noi siamo in un'unica città. E non tutte le culture utilizzano do e mi fa, so, la sì, sappiamo bene che Guido d'Arezzo ci ha messo tanto del suo, ma sappiamo anche che gli anglosassoni hanno mantenuto quella che era la nomenclatura greca, giusto? Esatto, sì. Infatti dicono, ma prima siamo a Guido d'Arezzo in circa l'anno 1000, fino all'anno 1000 come facevano a chiamare le note? A caso, ovviamente no, usavano le lettere dell'alfabeto e A, B, C, D, F, G e infatti è la notazione che è rimasta in uso anglosassone, quindi è di derivazione greca e anche latina, insomma usavano le lettere dell'alfabeto. Come mai, una domanda Angela, come mai i tedeschi invece non si sono adeguati alla nomenclatura nostra italiana? Hanno ottenuto le lettere? Ah, questo non lo so, però anche loro come gli anglosassoni… Ah, ti occorre il che mi fa? Ah, questo non lo so, perché non lo so, però anche loro hanno ottenuto le lettere, anche loro, sì. E ci sarà un motivo, senza altro. Questo perché è interessante, perché il mio… Per piacere, documenta, ti studia, perché non si può… Il motto di musicologica è audio, video, disco, che tu dici audio, video, disco, ok, in realtà è un motto latino allo studio, è ascolto, osservo, imparo, disco è imparare, e quindi io sempre ascolti, io sempre osservo e io sempre imparo io per prima, quindi assolutamente, poi noi mettiamo giù, lo vado a cercare questa. Senti, un'altra domanda che mi viene da farti, perdonami se interrompo questa tua letio magistradis di musica, perché di questo stiamo parlando alla fine, abbiamo parlato di notazione musicale, di canti gregoriani, quindi voce, ma gli strumenti come erano messi a quell'epoca e cosa è successo a livello di strumentazione? Beh, la storia degli strumenti è un altro gigantesco mondo super interessante e anche lì è proprio grazie anche ai libri, alle pitture, agli affreschi che ci ha tramandato la storia, che riusciamo anche a capire l'evoluzione degli strumenti, ad esempio. Beh, io ho appena fatto partire ad esempio un corso proprio sulla musica negli affreschi della Padova di Giotto del 200, e quindi come grazie agli affreschi, ai dipinti, noi riusciamo a ricostruire la storia della musica e la storia degli strumenti musicali. All'epoca ad esempio, uno strumento, una storia interessante, pianoforte a parte, perché quello viene molto dopo, è ad esempio la storia della chitarra, la storia della chitarra che pensa che è partita 5.000 anni fa in Egitto. E lì è stato trovato il primo esempio, il primo prototipo di chitarra, e poi la storia sua è andata in Spagna, è andata in Italia, e anche qui a Padova c'è un affresco di Giusto de Menabuoi, nel Battistero del Duomo, dove c'è forse un prototipo di chitarra datato 1300, perché quindi è un liuto, perché il liuto è bombato, mentre la chitarra è a fondo piatto. E quindi è grazie, e la chitarra poi ha avuto un'evoluzione pazzesca, perché a volte c'erano degli strumenti musicali, magari uno stesso termine poteva definire più strumenti, quindi chitarra, viella, liuto, a volte c'erano dei termini un po' ibridi che andavano ad indicare diverse tipologie di strumenti, quindi è anche un po', insomma, è molto interessante ricostruire la storia anche degli strumenti musicali. I primi strumenti musicali in epoca preistorica sono stati dei flauti, sono stati trovati dei flauti creati da delle ossa di animali, sono stati ritrovati questi reperti con dei fori, e quindi si pensa che fossero, insomma, degli strumenti musicali, dei flauti, dei prototipi di flauti, e anche, ovviamente, poi le percussioni. Eh, quello, infatti, ti stavo interrompendo, ma... Facile, perché più facilmente con delle ossa, con, non lo so, con dei pezzi di legno, adesso mi invento, insomma, ci si ingegnava facilmente, si potevano creare delle percussioni e quindi del ritmo per accompagnare poi i canti. Quindi flauto e percussioni sono stati, ovviamente poi il canto, beh, ovviamente il canto è stata la prima cosa. Chissà chi sarà stato il primo ominide a tirare una corda e dire... Che bel suono che ha! A saperlo, a saperlo. E invece, per quanto riguarda il canto, qui siamo nella monodia, qui nel Medioevo, siamo ancora nel momento della monodia liturgica, no, medievale, quindi di questi canti sacri, religiosi, perché ovviamente nel nostro Medioevo la Chiesa ha avuto un grande peso nella nostra storia, quindi non possiamo non parlarne. E anche qui studiare il tipo di musica, il tipo di musica dell'epoca è sempre uno specchio della società, anche oggi, no? Quindi ogni società ha la musica, un certo tipologia di musica, che è il suo specchio riflesso. E quindi anche la monodia, ad esempio, liturgica del Medioevo è interessante perché dà proprio l'idea del tempo, della circolarità che si aveva allora del tempo, no? Quindi di questi riti che tornano ogni anno, ogni anno torna la Pasqua, ogni anno torna Natale, le varie festività con i loro canti e con le loro tradizioni, no? E questa era una visione ciclica della vita e anche della musica, dei canti che tornavano. E qui c'è anche una interessante affermazione di Umberto Eco, il quale afferma che nel Medioevo c'era una grandissima spinta all'innovazione, nascosta invece dalla ripetizione. Mentre dice Eco, oggi c'è una musica che è molto ripetitiva, anche se finge di essere innovativa. Questa è una stoccata di Umberto Eco, questo perché? Perché nel Medioevo c'era una grandissima spinta all'innovazione. Ovviamente si andava un po' lentamente, nei secoli nel senso, però c'era una grande evoluzione appunto della notazione, dello scrivere la musica, dei canti. Quindi cambiavano, i riti tornavano sempre ogni anno, tra la Pasqua, tra la Natale, eccetera, eccetera. Ma i canti cambiavano, c'era una grande spinta invece all'innovazione che ha portato poi ad esempio alla polifonia. Quindi dalla monodia passiamo alla polifonia, dall'ars antica passiamo all'ars nuova. C'era una grande spinta appunto all'innovazione pur mantenendosi radicati nelle stesse tradizioni. Poi nascevano anche nuove tradizioni, nuove festività che avevano bisogno di nuova musica. Quindi in realtà c'era molta innovazione, anche se potrebbe non sembrarlo ecco in realtà. Angela, i canti siamo arrivati intorno all'anno 1000-15, fu probabilmente ormai, credo con la tua storia. E quando si parla di canti si parla prettamente, se non completamente, esclusivamente di canti sacri? Qui c'è, allora, i musici, quindi quelli che studiavano la musica, quindi la musica colta, era ovviamente di aria sacra. Poi parallelamente c'è anche tutta la storia della musica profana, popolare, folcloristica, che corre parallela e che è sempre esistita, no? Però non faceva parte delle festività sacre della chiesa. Quindi i musici, perché dopo si apre anche tutto il capitolo del mecenatismo, no? Erano assoldati all'epoca dalle grandi cappelle musicali, per cui componevano le composizioni per le grandi festività e per le occasioni religiose. Poi un po' di cambiamenti sono avvenuti a partire dall'undicesimo secolo, con la nascita, ad esempio, della lirica trobadorica, dei giullari, della musica di corte. Questo ce lo ricordiamo, no? Magari nei nostri studi. E quindi da lì, poi dal 1200 in poi, si dice che la musica esce dalle chiese. Ogni tanto qualche rivoluzione della musica usa questa visione, no? La musica che esce dalle chiese e comincia, appunto, anche la musica popolare ad avere il suo peso, la sua importanza. E quindi la committenza, il mecenatismo non più soltanto religioso delle grandi cappelle musicali, ma anche il mecenatismo cortese e quindi le grandi corti che erano proprio veramente dei centri di produzione culturale, dove venivano chiamati grandi musicisti per creare delle musiche per aglietare i propri sudditi. E poi, e via anche con il mecenatismo delle monarchie assolute. E qui, ad esempio, troviamo un'altra figura interessante, che è Marchetto da Padova, che era un padovano, io sono padovana e quindi, tant'è che te lo cito, non posso non farlo. E quindi è Marchetto da Padova, che è un'altra personalità interessante, è stato il primo musico della cappella musicale del Duomo di Padova, che è stata, dicono, la cappella musicale più antica del mondo, pensa un po'. E lui, tra l'altro, è anche lui, è un nome importante come Guido d'Arezzo, perché è anche definito, Marchetto da Padova, un po' il simbolo della notazione e della trascrizione italiana della musica. Lui ha iniziato, nei suoi testi, il pomerium e il lucidarium, a parlare, ad esempio, di diesis, a parlare di semitono, quindi a dividere il tono in parti più piccole, ha cominciato lui ad avere queste intuizioni. Quindi è un passaggio, anche questo, molto, molto importante. E poi lui dava importanza nel suo scritto pomerium, anche dal punto di vista sempre culturale, filosofico, della musica, una cosa molto interessante, perché lui paragonava chi scriveva la musica, quindi il copista, ad avere un'importanza pari a quella dell'artista che dipinge. Perché lui parla proprio anche di realismo, e qui si rifà anche a Giotto, che negli stessi anni era qui a Padova a dipingere la Cappella degli Scrovegni, a portare la rivoluzione nel campo dell'arte visiva. Infatti Marchetto da Padova è definito anche il Giotto della musica, penso un po', perché lui vede appunto l'importanza anche del copista nel trascrivere la musica nel modo più corretto. Adesso semplifico un po' il concetto possibile, in modo tale che sia più realistica possibile, perché dice per fare in modo che chi poi la suona, la suoni nel modo più simile possibile a quello che aveva in mente chi l'aveva creata. E quindi cercare appunto nell'evoluzione della storia della notazione musicale di evolversi e di cercare di scrivere le note nel pentagramma, anzi nel pentagramma, c'erano quattro note allora, no? Nel modo più corretto possibile, quindi ecco che comincio a pensare al diesis, al semitono, perché era molto importante appunto trascrivere la musica nel modo più realistico possibile, perché allora le registrazioni non c'erano. L'unica cosa che c'era erano i libri in cui si scrivevano le musiche stop, altro appunto non c'era per tramandare appunto la musica, ciò che un musicista aveva in mente, quello che gli suona nella testa e che voleva poi realizzare, no? Comporre. E tra l'altro interessante anche all'epoca che appunto non c'erano supporti di registrazione e anche il fatto che la musica cessava di esistere e era suonata soltanto la musica contemporanea. Quindi all'epoca, nel Medioevo, c'era solo musica contemporanea. Questo è un concetto detto così, veramente molto curioso, ma nel senso che non era ancora arrivato, per quanto riguarda la musica, il concetto di repertorio, il concetto di genio musicale. Quindi la musica del passato cessava di esistere perché il compositore di oggi componeva la musica che veniva eseguita oggi e domani e dopo domani. Poi, mancato lui, ne veniva un altro che componeva ancora musica nuova, questa grande spinta all'innovazione che ti dicevo. Quindi la musica non veniva dimenticata, veniva studiata dagli studiosi, dai musicisti, eccetera, eccetera, ma non veniva più suonata. Quindi il pubblico che assisteva ai concerti nelle corti o nelle chiese ascoltava la musica che veniva composta dal compositore contemporaneo a loro. Quindi la musica del passato veniva dopo un po' di tempo sorpassata, era vecchia e ne veniva composta sempre di nuova. e arriviamo poi così nel 600 un po' alla volta, nel 600 poi dalla monodia passiamo alla polifonia, passiamo ai mottetti e poi da lì arriviamo poi al melodramma con Metastasio, sto andando veramente tagliando con l'accetta, ma giusto per avere un po' una farinatura di cosa sta succedendo, perché poi siamo in Italia, arriva l'opera, no? E tutto parte da Monteverdi con l'Orfeo nel 1602, se non sbaglio. E poi cosa succede? Quindi cominciano anche ad aprirsi teatri e quindi cominciano ad esserci anche le prime rappresentazioni teatrali e comincia a formarsi quindi il pubblico e questo è un concetto interessante, perché fino ad allora si poteva ascoltare musica andando in chiesa oppure andando nelle corti, nelle grandi monarchie, no? Ma non c'era il concetto di pubblico a pagamento o andiamo a teatro o andiamo al concerto, ovviamente, no? Iniziamo un po' adesso con questo nuovo soggetto, diciamo, sociologico, cioè il pubblico. Il pubblico e i musicisti è un binomio che fa parte della storia della musica, è innegabile. E anche qui si potrebbe parlare di musica e pubblico, è un concetto, un binomio che a me piace tantissimo, è sociologia della musica. Certo, immagino che il pubblico al quale alludi fosse comunque un pubblico non popolare, credo, non lo so, di mano tu. Il primo concerto di musica classica, come possiamo intenderlo noi, pensa che c'è una data, perché sai che gli storici cercano sempre una data, un giorno in cui qualcosa è successo e poi tutto è cambiato per sempre, no? E qui una data, in realtà, gli storici della musica l'hanno trovata, è il 1672. Nel 1672 a Londra, Bannister, che era un violinista e un impresario, ha avuto l'idea di creare un concerto pubblico a pagamento a casa sua e il biglietto costava uno scellino. Ha fatto anche pubblicità sui giornali dell'epoca, quindi proprio perfetto, invitando la gente a casa sua e anche poi per le successive rappresentazioni, perché la cosa ha avuto successo, quindi ha avuto seguito. E quindi a casa sua si entrava pagando uno scellino, aveva un grande salone dove accostava le sedie al muro e al centro suonava un piccolo ensemble di musicisti. E quindi questo, siamo nel 1672, comincia appunto la musica a diventare appunto appannaggio, come tu dicevi, di tutti. O, insomma, di un pubblico pagante, quindi non bisognava più far parte di un beat per entrare in un grande concerto, in un grande evento di musica, perché poi, vabbè, la musica folcloristica, la chitarra e queste cose qui, è un'altra cosa. Però a livello di, come oggi intendiamo, un grande evento musicale, comincia appunto nel Seicento e per quanto riguarda la musica, il concerto di musica classica, insomma, strumentale, nel 1672. E ci avviciniamo al Settecento e che cosa succede, no? Arriva poi la rivoluzione francese e la storia della musica va a pari passo con la storia dell'uomo e cosa succede? Decade poi il mecenatismo, comincia ad arrivare la burghesia, questa nuova classe sociale, e quindi si comincia a parlare di mecenatismo moderno, quindi di committenza pubblica o privata. Quindi comincia qui a cambiare le cose, cominciano a cambiare le cose e cominciano ad avvicinarsi a come noi intendiamo la musica oggi, no? E arriviamo poi anche in un periodo molto importante della musica che è il periodo classico. Allora, quando si parla di musica classica, è un termine che usiamo per indicare tutto ciò che non è lirica, tutto ciò che non è musica popolare, pop, jazz, rock, blues, ma tutto ciò che è Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, fanno parte della musica classica, quello noi intendiamo, no? In realtà musica classica, tecnicamente, è proprio un periodo storico che sta tra il barocco e il romanticismo, che è stato quindi tra il 1750 e il 1820, siamo già arrivati qui, eh? Ed è il periodo di Mozart e Beethoven, ecco, questo sarebbe proprio il periodo di musica classica, tecnicamente detta, ecco, ed è un periodo molto importante perché troviamo, tra le altre, insomma, la figura di Haydn, ad esempio, che anche lui ha avuto successo con il Messia, il Messia, a Londra, no? Che anche lì ha aperto poi al pubblico perché ha avuto tantissimo successo che ha cominciato poi il Messia ad essere comunque sempre riproposto, perché ricordiamoci, ti avevo appena detto, poco fa, che la musica veniva un po' dimenticata, no? Certo. La musica del passato veniva dimenticata perché nel 600 c'è stato anche un certo Bach e io me lo sto volutamente dimenticando. Un personaggino così, tipo il Marchetto, il Marchetto da Padra, no? Sto scherzando perché questo Marchetto da Padra mi ha colpito molto perché, voglio dire, è una figura che è importante, io è la prima volta che lo sento, sinceramente. Eh, lo so, perché fa parte di musiche, siamo nel 300, musiche antiche, musiche non popolari, cioè non di gusto popolare, quindi non è un nome come Bach, come Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi, che ne so, ne possiamo dire tantissimi, no? E quindi è un nome che un po' dimenticato perché fa parte di una musica un po' di nicchia, però anche lui come Guido d'Arezzo, che invece conoscevi, anche il Marchetto da Padra ha un'importanza più o meno pari, insomma, alla sua per le grandi innovazioni e le grandi intuizioni che anche lui ha avuto. Lui ha anticipato, c'era il momento in cui si passava dall'Ars antica all'Ars nova, nomi facili per una volta, quindi già si capisce cosa è successo. E lui, l'Ars nova, arriva dalla Francia con Philippe de Vitry, un altro personaggione. Marchetto da Padova, secondo alcuni studiosi per gli scritti datati che ha fatto, ha anticipato delle innovazioni addirittura di aria francese, quindi è stato un personaggio che ha avuto delle grandi e importanti intuizioni dal punto di vista appunto della storia della musica. Siamo arrivati però a Bach, adesso lasciamo un attimo lì il Marchetto, anche se è stato fondamentale. Ci stanno dicendo di Bach, eh? E dovrebbe essere il suo nome importante, non dico quanto, Beethoven, però insomma è un personaggio, insomma dai, che va conosciuto. Quindi sono contenta di aver stuzzicato la tua curiosità, perché questo è il mio scopo, suscitare un po' di curiosità, di voglia di scoprire, di saperne un po' di più. Quindi grazie perché hai realizzato quello che io voglio fare con quello che faccio, con i miei corsi, con i miei scritti, insomma. Quindi sono felice di questo. E arriviamo a Beethoven, no? Quindi qua lo conosciamo tutti, non c'è bisogno di presentazioni. E questo è un momento importantissimo anche la figura di Beethoven, non soltanto dal punto di vista stilistico musicale, ma anche dal punto di vista proprio di cambiamento, perché ci sono degli storici che vedono in Beethoven l'inizio della musica contemporanea. Ci sono dei punti per cui la musica contemporanea può anche essere fatta iniziare con Beethoven. Perché questo? Perché con Beethoven cambia proprio il modo di intendere la musica di essere musicisti. Il musicista con Beethoven diventa un libero professionista, apre la partita IVA, no? Diremmo oggi, quindi non è più alle dipendenze di un mecenate, no? Non ha più un contratto a tempo indeterminato, per cui è lì, deve soddisfare le richieste del suo mecenate ed è a posto. Non che sia facile, però insomma quello è. Invece con Beethoven siamo arrivati poi nel romanticismo, nella borghesia, siamo dopo la rivoluzione francese, no? Siamo in questo momento, come ti dicevo, di grande cambiamento sociale. E quindi ecco che si ha una nuova concezione dell'essere musicista. E anche la concezione che Beethoven mette nelle sue opere è molto moderna, perché lui affatti si sente portatore di un messaggio molto forte, no? Che vuole che sia tramandato al pubblico, anche al di là del tempo. E questo è un concetto che per noi è... Nuovo per l'epoca, no? Per noi è ovvio, cioè dici vabbè, ok. Invece per l'epoca era un concetto molto nuovo questo che Beethoven aveva. Ed era anche molto forte in lui questo sentimento. Ecco che quindi proprio comincia a cambiare il modo in cui il musicista si approccia alla musica che scrive, a come la scrive, il perché la scrive e anche per chi la scrive. Quindi il musicista comincia a essere un libro professionista e quindi si avvicina, cioè insomma è la figura che è anche oggi. Quindi comincia ad avere i suoi introiti da tenendo lezioni di musica, tenendo concerti e scrivendo musica per chi vuole lui, cioè per i suoi clienti privati che di volta in volta accetta oppure può anche non accettare, no? Quindi ecco che con Beethoven comincia a si volta pagina e inizia un nuovo modo appunto di vedere la musica. E anche inizia poi, entriamo poi nel romanticismo, e il romanticismo vede anche nella musica l'espressione più alta della spiritualità umana. Per i romantici infatti la musica era l'arte per eccellenza perché riusciva, dicono, ad esprimere l'inesprimibile, ad esprimere l'interiorità delle cose, qui sono molto ovviamente, no? Un concetto molto romantico. E quindi cominciano a ridare appunto un'importanza molto alta alla musica. E quindi cosa succede nel romanticismo poi? Entra anche il concetto di genio musicale, perché ora che il musicista si è smarcato dal mecenatismo e che sono tutti liberi, professionisti, con partita IVA, c'è anche il libero mercato. E quindi non devi più accontentare il tuo mecenate, ma devi accontentare un pubblico neutro. Cioè devi accontentare un pubblico. Quindi la cosa comincia... Tenti a confonarti, ma è la seconda volta che dici partita IVA. Siccome l'ho appena versata, io qualche giorno fa sono abbastanza, come dire, caldo sull'argomento. Ma lo dici per dire partita IVA? Lo dici per dire partita IVA? O esisteva veramente... No, no, l'ho detto. No, no, per facilitare il concetto. No, no. No, adesso, non che si chiamasse partita IVA, questo l'ho immaginata. No, 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 no. Lui era solo per scherzare. Avevano comunque qualche modo per identificare il soggetto fiscale, chiamiamolo così. Ah, mamma mia. Questo non lo so. Non credo all'epoca che fosse così. Però erano dei liberi professionisti. Quindi io ogni tanto dico così, no, per facilitare un po' il concetto. Era anche per smorzare un po' la seriosità dell'argomento. No, no, per carità. No, no, no. Però erano dei liberi professionisti. Quindi il concetto era quello. Non dovevano versare le tasse allo Stato, fortunati loro. Però il concetto era che sei da solo tu e ti devi mantenere tu col tuo lavoro. Quindi insegnare musica, fare dei concerti, vendere la tua musica, scegliere tu i tuoi clienti, trovarli i clienti e soddisfare il gusto di un pubblico che non è più un cliente suo. Cioè il Monarca, il Re Sole, il Re Sole sarà stato sicuramente molto particolare, però insomma accontenti lui, ti paga e hai finito la cosa. Qui le cose sono meglio da un certo punto di vista, ma anche più difficili da un altro punto di vista. E quindi entrando poi nel romanticismo, arriviamo appunto al concetto di genio, no? E quindi anche al concetto di un musicista più bravo dell'altro, scelgo uno piuttosto che un altro, perché comincia anche a esserci la concorrenza e quindi la creatività, la creatività artistica comincia ad avere ancora più peso rispetto a una volta. E quindi si forma il concetto di genio, si forma anche in questo momento il concetto di repertorio e quindi di grandi personalità, di musicisti molto bravi, che vale la pena suonare e risuonare e non dimenticare, perché le loro opere sono molto belle, come oggi accade nei teatri di tutto il mondo. Ed ecco che c'è un'altra data molto importante, che è il 1829, che è una data molto importante, perché è l'anno in cui Mendelssohn, Felix Mendelssohn-Bartholdi, ha messo in scena per la prima volta dalla sua morte da Bach, la passione secondo Matteo. Quindi Mendelssohn a Berlino nel 1829, per la prima volta dopo la morte di Bach, che è avvenuta nel 1740, riprende la partitura della passione secondo Matteo, e la propone ad un pubblico, ottenendo un grandissimo successo. E questo è un momento molto importante, da qui parte la rinascita Bachiana, così chiamata nei libri di storia, perché Bach viene ripescato, riportato alla luce, meritatamente, ovviamente, e da lì mai più dimenticato. Ecco che quindi, capito, comincia qui a formarsi l'idea di repertorio, di genio musicale, cominciano a formarsi anche i primi studi musicologici. C'è un certo Volker, che è stato il primo personaggio che ha scritto una biografia nei primi anni, nel 1802, insomma nei primi anni dell'800, su Bach, e quindi andò a ripescare questo musicista, perché non è che andavano dimenticati dai musicisti e dagli studiosi, andavano dimenticati, diciamo così, cioè non venivano più suonati al grande pubblico, no? Queste pagine di musica. Però ecco che ora, con una mentalità cambiata, si comincia anche a pubblicare e a voler divulgare queste bellissime pagine del passato, che anche se erano passate, erano comunque ritenute importanti e meritevoli di essere ascoltate ancora nuovamente. Bach, ad esempio, ci sono delle lettere di suo figlio che dice mio padre è una vecchia parrucca, basta, è superato, andiamo avanti, la musica di mio padre è superata, suo padre era Bach, e quindi all'epoca funzionava così, ora le cose invece cominciano a cambiare, a avere delle considerazioni differenti e avvicinarci poi sempre più repentinamente a quello che intendiamo e a come viviamo poi la musica oggi. Sei della mia opinione, Angela, che lui sia stato più grande di tutti? Questo non lo so, non perché lui non lo sia, perché secondo me lo sono tutti, tutti hanno una loro importanza, quindi non chiedermi qual è il mio genere musicale, il genere musicale preferito se vuoi anche sì, però il mio musicista preferito, il disco, no, non mi fare queste domande. Non sei anche tu della mia opinione, che se tu hai certi musicisti, a quasi tutti, se tu togli il piano a Chopin, hai tolto tutto, se togli il pianoforte, il violino a Mozart, hai tolto tutto, a Bach non gliene importa niente la musica di Bach, si viene fatta con quattro canine, cioè funziona lo stesso? Sì, assolutamente sì, però non credo che sia lì. Questa mi sembra una cosa da poco, ecco perché lo ritengo... Ah no, assolutamente sì, ma non dico che tu non abbia ragione, però dico che è una situazione in cui ci dovrai ragionare, non so, un mese, e poi forse ti do una risposta, perché queste sono... io non riesco a essere così assolutista su queste risposte, cioè proprio amo troppo la... ma non che tu non la... nel senso, oddio, ti sto rispondendo malissimo, cioè non... sono talmente tanti i geni per le loro... ovviamente lui è uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda la nostra cultura, su cui si fonda la musica, è imprescindibile, se tu togli un pilastro cade tutta la casa, però ce ne sono magari più di uno. No, ce ne sono tanti, ma questa sua peculiarità mi ha sempre affascinato, veramente... con qualsiasi strumento, non per forza un clavicembo ad un pianoforte, e poi non dimentichiamoci un altro aspetto che mi ha sempre, mamma mia, spiazzato di quest'uomo, è la mole delle cose che ha fatto. Io non so, ma dormiva questo qui, andava in bagno qualche volta. Geni beati loro, beati loro, questo essere geni, avere, essere delle persone uniche, delle personalità uniche, in spenso, avere delle doti inarrivabili, e pensa che se lo stavano dimenticando. Mi sono riallacciato proprio perché tu stavi dicendo che grazie a Mendels viene poi ripresa la sua musica, la sua genialità. Lo segui pure. Prima o poi sarebbe successo lo stesso, insomma adesso, però è successo, con Mendels, ma questo perché poi c'è tutta anche un'altra visione sociologica della musica che appunto dice, per adacciarsi a musica e pubblico, che alla fine chi ha successo, cioè i grandi del passato, le musiche, le pagine di musica che oggi sono ritenute dai grandi classici, ma anche chi ha successo oggi, i Beatles, per non andare tanto distanti, hanno successo perché hanno ottenuto un risconto da parte del pubblico. Se manca un risconto da parte del pubblico, anche delle pagine di musica bellissime, dei musicisti meravigliosi, dei geni assoluti, vanno dimenticati, vanno del dimenticatoio, quindi comunque per entrare, per scrivere il proprio nome nella storia della musica, bisogna anche aver avuto un riconoscimento da parte del pubblico e questo non è solo oggi per le classifiche, per i like, per Spotify e per i dischi d'oro, d'argento e di platino, era anche nel passato, perché ad esempio Haydn con il Messiah ha avuto un grandissimo successo di pubblico che quindi è continuato a essere sempre risuonato e quindi questo capitava anche allora, quindi la storia della musica va anche di pari passo con la storia della sociologia e con la storia del pubblico, perché... Perfetto, hai detto, hai espresso un concetto che direi fondamentale e che mi sembra di aver capito ti appartiene molto, ti intriga molto. Ascolta Angela, siamo arrivati ad un'ora di intervista. Porco? Io ti propongo una cosa, perché gli argomenti che tratti e come li tratti sono veramente interessantissimi a dire poco. Io ti propongo, se sei d'accordo e se no andiamo avanti, di chiudere qui e di concepire una seconda parte della tua storia, perché mi sembra veramente interessantissima e se sei d'accordo, così magari non appesantiamo molto questo intervista, perché un'ora è ascoltare per un'ora. Eh, ma se io parlo di musica te l'ho detto, mi devi bloccare perché... No, no, ma infatti lo sto facendo. Se sei d'accordo, proseguiamo in un'altra, in una prossima intervista. Siamo alle porte del Novecento. Eh, appunto, però ne succedono di tutti colori. Ok? Sei d'accordo con questo? Va bene, va bene, volentieri, volentieri. Benissimo. Allora, senti, io intanto saluto tutti voi che siete stati ad ascoltare, soprattutto Angela, in questo caso, e vi do l'appuntamento alla seconda puntata quindi di questa storia della musica con questa simpaticissima e coltissima musicologa. Ringrazio te, Angela, e ci risentiamo a brevissimo per la seconda parte di questa interessantissima storia della musica. Ok? Grazie, Tino. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.